Io credo che il solo fatto che le aziende abbiano risposto con una decisione al 100%, o versando delle doppie quote o addirittura in una formula che abbiamo trovato noi, comprando delle azioni e quindi ormai mancano la firma sui documenti. La settimana prossima sarà costituita una immobiliare con soci che verseranno soldi per acquistare questa sede che sarà la sede di Confindustria, questo ve lo posso dire, ma sarà soprattutto la casa dell'efficienza per tutta Benevento, perché chiunque vorrà potrà trovare degli uffici anche a servizio del semplice cittadino, chiunque vorrà potrà avere uno spazio per poter fare una propria attività, per fare dei corsi di aggiornamento, cioè noi vorremmo, nella nostra idea, realizzare una struttura che non si chiuda, noi non amiamo le porte chiuse, magari solo quelle del calcio per evitare via troppi colpi, ma per le altre ci fa piacere aprirle.